Ciao a tutti da Podrak! Ebbene si, iniziamo il video subito con il nostro tanto atteso aereo Devo ringraziare il nostro amico Ricky di Discord che mi ha avvisato di questa mod In realtà mi ha avvisato di tante altre mod, magari le vedremo qui nel canale Finalmente su Farming Simulator abbiamo gli elicotteri, abbiamo gli aerei, i droni I droni li abbiamo visto anche da Nick e penso che da quella mod alla fine si sono sviluppate tutte queste E sapete Podrak cosa potrà fare adesso con tutte queste mod nel lato Emergency Questa sarà più una presentazione mod per farvi vedere un po' il suo funzionamento Ma prima di andare a vedere come funziona questa mod, dove si trova, come si scarica Vi ricordo che oggi è il Black Friday, su Instant Gaming avete la possibilità di acquistare migliaia di giochi scontati In realtà centinaia, dipende Approfittate di questo giorno perché ci sono davvero tantissime offerte Link per vedere tutte queste promozioni qui sotto in descrizione A parte lo spam, torniamo a parlare di mod Ringrazio anche Simonegno e Riccardo che ogni volta sul mio Discord vi aggiornano con tantissime nuove mod inerenti L'emergenza Questo è un aereo che teoricamente a cosa serve su Farming Simulator A parte le cavolate di Podrak con le sue emergenze Serve per fertilizzare i terreni Infatti voi salite all'interno del vostro aereo Lo dispiegate, come vedete si accende, funziona tutto E andate a spargere il vostro fertilizzante velocemente sul vostro terreno Ed è un realismo che di solito viene applicato in America, non tanto in Europa Ma sicuramente è interessante È un approccio che già su Farming Simulator 17 abbiamo visto Finalmente anche qualcuno si sta muovendo per il 19 Come si scarica? Vi lascio il link qui sotto in descrizione del mio Discord Essendo che la mod non so se è privata o pubblica Cercherò di darvi le istruzioni nella sezione lista mod FS19 emergency su Discord Per capire come scaricare questa mod È facilissimo Dove si trova? Accedete in P Non lo trovate da nessuna parte Se non in protezione per il raccolto C'è Avion Questo qui Addirittura Lizard No, non penso arriverà mai su console Sono troppo ottimista Però Chi lo sa nella vita Costa 18.000 euro Lo potete acquistare Anzi io lo compro di nuovo Perché dopo vi voglio far vedere Cosa potete realmente fare con questo aereo E adesso direi di entrare Io sono in questa mappa Che non ho idea di come si chiami È una mappa fighissima tra l'altro Gigantesca Con l'aeroporto Questo non so se riesco a linkarmelo Perché non lo so neanche io che modo scaricato C'è l'aeroporto Anzi andiamo sulla pista Vi faccio vedere anche l'interno Cioè Ok Non è proprio il top Non è Non è flight simulator Però Parliamo sempre di Farming simulator Torre di controllo Qui il senior poderhack Richiede l'autorizzazione al volo Vai poderhack Prendi il volo Vai Con il mouse Sinistro Tasto sinistro Ho iniziato a prendere Oddio In realtà non ho ancora capito Come si fa Prendete il volo E andate C'è un piccolo problema Ma proprio piccolo È come il drone Qui sotto Ci sono le collisioni Ok Quindi Finché non ci sono sotto collisioni Il nostro aereo Vola Vola senza problemi Girate Oddio c'è un elicottero lì Ma guardate cosa succede Appena trovato l'estacolo E non si capisce Che succede L'aereo Si schianta A parte il fatto che Non ho mai visto Podhack un aereo Fare retromarcia E a dire la verità Un aereo fermarsi Non si è mai visto Però è una Pro Ci stiamo avvicinando Ci stiamo avvicinando Qui non so che collisione c'è E direi di fare un giro Con questo aereo Che ok Non è bellissimo Esteticamente È un po' squadrato Un po' tutto storto Però Secondo me È già L'inizio Di qualcosa Di davvero interessante Perché finalmente Possiamo Introdurre Gli aerei Su Farming Simulator In realtà I king Di Farming Simulator I veri simulatori Mi stanno I veri king Sostenitori Della simulazione Mi stanno dicendo Oh ma Poderack Ma tu proprio Non sai giocare a farming No raga Io non so giocare a farming Io mi diletto con queste mod E mi diverto Un sacco L'utilità Alla fine È così e così Avete visto Perché c'è questo problema Delle collisioni Basta che c'è un sassolino E non si capisce perché Il proprio Tipo adesso qua c'è C'è il treno Guardate che succede Se mi vado a schiantare Con il treno Dovrebbe Fare cose strane Esatto Come se ci fosse Davanti a un muro È una mod Molto molto figa Ma ve lo farei anche Vedere di notte Che c'è anche il clacson Guardate Tac Con la pioggia Sarebbe stato fighissimo Vediamo C'è la No non c'è la luce Che lampeggia Però c'è le luci sotto Vedete Così fate Mi fate notare Ma è Fantastica Questa modo Cioè io Appena l'ho vista Ho detto No assolutamente Ci devo fare un video Rimettiamo giorno Di nuovo Magari speriamo Che smetta anche di piovere Allora Come funziona Lato agricoltura Lato agricoltura Adesso vediamo insieme Vediamo se spengo Che succede Se spengo Vedete Non è che Va giù Tipo su farming simulator C'era proprio La collision L'aereo Io adesso Sono così L'aereo rimane lì Oddio Bellissimo Così posso fare lo screenshot Però anche se Cioè potete salire Senza problemi Il mouse È una mod Un po' così Si poteva fare meglio Però c'è sempre Tempo per migliorare In realtà mi ha inviato Sempre Ricky un elicottero E quello lì Dovrebbe essere Una bomba Anche quello Pazzesco Lo vedremo In un prossimo video E questo È sicuramente L'idea Di nuovi contenuti Questi sono tutti i treni Della mod Eccolo qua Allora Non mi ricordo adesso Che tipo di fertilizzante Utilizza Ma qui vediamo Dei vari simboli Ah beh Questi sono i simboli Della mappa Dovrebbe essere Quello solido No Quello liquido Cacchio dico Liquido Quindi proviamo Vediamo 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 subito Facciamo compra Se Ci avviciniamo Andiamo Ok vedete Si sta ricaricando Oddio Non ho un milione Di euro Si si è Fertilizzante liquido Quindi compriamo Un po' di fertilizzante Perfetto Compriamo 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 Almeno Tre o quattro Dai Ci compriamo Si ricarica Nel frattempo Io nel frattempo Compro anche Un terreno Perché ok Tutto Poderak Ma Dobbiamo provarlo Almeno una volta Su Un qualcosa Il terreno Più vicino È Il terreno Il terreno 60 Ma il signor Poderak È Povera Non si dicono Parolacce Poderak Mettiamo I big money Andiamo a Comprare Il nostro Terreno Questo alla fine È un test Mod Io non ne faccio Tanti Di solito Mi piace più Portare contenuti Originali Però in questo caso Davvero A parte il fatto Che non ho tempo Perché C'è questa cosa Del black friday Su amazon Su stan gaming Dappertutto Allora Ho detto Facciamo un test Mod Così Alla veloce Vediamo Il suo funzionamento Io adesso Continuo Vabbè In realtà Non è che lo dobbiamo Usare tutto Il fertilizzante Va bene Anche questo qua Anche se Non è completo Vediamo anche I consumi Perché Per esempio In quella del drone Di nicche Che Vabbè Si può sistemare Sempre Però Vedete Tutto strano Si adatta Al terreno Allora Dispieghiamo Lì Lì Paolo Dera che Che detto Com'è che si chiama Mamma mia Non so Ma Cosa Cosa Raccolto Com'è che si chiamano Irroratrice Ok Irroratrice Mamma mia Teoric Ecco Vedete Come fa Bello Andate lì Facciamo In questo caso È un terreno Però Simuliamo Che sia Un incendio È bello No È bello Bello Anche dall'interno Oddio Che cosa sto puntando Vediamo come scende Si scende Decisamente Velocemente Ma ci sta Alla fine Un aereo Non è che Sarebbe Cittare Aumentare Il fatto Che consumi Meno fertilizzante Come fa Nick Nick Alla fine Ha aumentato La quantità Perché voleva Cittare Alla fine Ci sta Dai No scusa Nick Io l'ho Disso Nick Ma Nick Ma Nick Vedi i miei video Nick Se ci sei Ogni tanto Guardi i miei video Commenta Ciao Poderak No ma Non penso Non penso Non penso Nick Registriamo solo Nick Non mi segue Mi raccomando Se volete Una serie Su FS19 Emergency Volete Che ne so Un qualche Altra mod Simile a questa Scrivetemelo qui sotto Nei commenti E io Sicuramente La proverò E farò Episodi Interessanti Io davvero L'ho apprezzata Tantissimo Questa mod Complimenti a chi L'ha realizzata Vediamo se c'è Il nome Del Creatore No non c'è Il nome Del creatore Ah no Si che c'è TJ Modding Bravo TJ Modding Mi sembra Che è quello Che ha fatto Anche proprio Quella del drone E sicuramente Bello Spero che Vi sia piaciuta Questa mod Vi lascerò Qui sotto In descrizione Il link Del mio Discord Così entrate Ve la scaricate Seguitemi Su Facebook Instagram Telegram Vi ricordo Il link Distant Gaming Per aderire Al Black Friday Magari trovate Qualche gioco Incredibile E niente No ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao